ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video sonoff che ci ha abituato a produrre un sacco di dispositivi utili che dobbiamo andare a infilare nelle scatole collegare fili cercare schemi guardare i miei tutorial eccetera eccetera ma ogni tanto nella gamma entra qualche dispositivo un po più semplice da installare e da utilizzare come nel caso dell's55 che cos'è è una presa da esterno sciuco già pronta già cablata già con dentro integrata l'elettronica del sonoff solo da collegare e utilizzare ve la faccio vedere vi faccio vedere come si monta come si collega come si installa guardiamo tutto per benino in modo semplice come al solito ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su instagram massidattoli perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale sonoff s55 molto importante come uscita abbiamo una tenuta in corrente per 16 ampere notiamo questa nuova confezione grigia rispetto alle solite azzurre verdi guardiamo cosa c'è dentro eccolo qua troviamo il dispositivo aperto da montare all'interno troviamo un passacavo fatto a tettarella si si chiama proprio tettarella troviamo poi le due viti per chiudere il contenitore e due tasselli di dubbia qualità che consiglio di non utilizzare e il nostro dispositivo viene consegnato aperto lui verrà chiuso in questo modo waterproof quindi resistente all'acqua questo dispositivo ha una certificazione ip55 quindi resiste alle polveri e ai getti d'acqua non all'inversione dentro abbiamo già tutta l'elettronica compreso relai sulla parte frontale abbiamo la presa sciuco per mettere quindi una spina italiana da 10 ampere senza terra va bene altrimenti dovete usare un adattatore per il mercato europeo danno questo contenitore non abbiamo la possibilità di avere una bipresa non mi sembra che dalla forma degli incastri si riesca a utilizzare qualche altro frutto ma potrebbe anche essere arriva già cablato con fase neutro e terra e in questo morsetto verde andrà effettuato il collegamento con neutro terra e fase vedete che c'è scritto ngl utilizzando questo passaggio una volta chiuso il dispositivo abbiamo ancora questo pulsante anche lui protetto da schizze tutto quanto che permette di fare l'accensione manuale questa tettarella per far passare il cavo andrebbe puntata qui il connettore verde non viene via quindi per collegare i fili bisogna operare da questa posizione ok come si monta vedete che queste sedi per le due viti sono separate dal resto della scocca questo perché perché sulla copertura c'è una guarnizione quindi noi fissando il dispositivo tramite questi due passaggi non andiamo a intaccare la plastica che garantisce diciamo la tenuta stagna di tutto il blocco la scatoretta andrà fissata tramite tasselli utilizzando solo questi due passaggi dedicati in questo modo quindi noi avremo un fissaggio corretto del contenitore alla parete ovviamente io l'ho fatto su del legno solo per prova per farvi capire e una volta che verrà chiuso avremo la tenuta stagna garantita dalla guarnizione per quanto riguarda la parte sotto questa tettarella andrebbe bucata in base alla dimensione del foro necessario far passare il cavo che utilizzerete vi ricordo che per sfruttare i 16 ampere di tenuta della presa andrebbe usato un cavo 3 per 2 e mezzo vuol dire un cavo a tre fili con la terra con sezione di ogni filo da 2 e mezzo questo qui ad esempio un 3 per 1 e mezzo che non è indicato per una tenuta fino a 16 ampere la tettarella incastrata qui garantisce una certa tenuta all'acqua ma se ad esempio arrivate con un cavo tipo questo multipolare quindi un unico cavo che dentro ha tre fini potreste anche usare un pg i pg sono questi accessori che si fissano al foro tramite un dado e che una volta fissati alla parete da questa parte hanno una guarnizione un sistema a stringere che va a garantire il corretto serraggio del cavo all'interno e una tenuta assolutamente stagna se volete fare un lavoro di questo tipo visto che il dado normalmente in dotazione è troppo spesso non passa qui tra il connettore e la plastica andrebbe ridotto come spessore stessa cosa se arrivate con una tubazione potreste usare un raccordo tubo scatola stagno stagno perché sulla parte esterna ha una guarnizione in gomma che va ad appoggiare sul contenitore e sulla parte dove entra il tubo rigido ha un orig interno questo anello nero anche in questo caso vedo che la parte filettata è troppo profonda e va a picchiare contro il connettore andrebbe tagliata e anche il dado di fissaggio interno è troppo spesso andrebbe abbassato come spessore quindi contenitore che è ben fatto che ha una buona tenuta ma che non permette l'installazione di accessori a tenuta stagna migliori rispetto alla tettarella senza fare qualche modifica quindi una volta stabilito il tipo di ingresso per il cavo che vogliamo utilizzare nel caso di tettarella basta praticare un foro grosso ma non troppo in modo da bloccare un minimo il cavo anche con una punta di una forbice se avete un cavo piccolo potrebbe andare bene lo stesso perché vedete che consente l'inserimento del cavo offrendo una buona tenuta sul cavo più il foro è piccolo più è giusto più riuscite comunque a garantire una buona tenuta anche utilizzando la tettarella ecco una cosa che non ho detto prima non è possibile arrivare dal retro del contenitore perché ovviamente è impegnato tutto dall'elettronica non è possibile far passare un cavo da queste parti quindi una volta preparato il cavo si potrebbero usare anche i puntalini se non avete visto il video guardatelo apriamo prima il mossetto che arriva chiuso mettiamo neutro terra e fase per essere sicuri che non scappi il cavo fuori dalla tettarella si può mettere qui una fascetta di tenuta in questo modo anche piccolina ma comunque utile a non far scappare fuori il cavo che di conseguenza tirerebbe con sei fini pingiamo l'abbondanza dei fili verso l'interno compresa la fascetta e incastriamo la tettarella con l'aiuto anche di un cacciavite fino a farla calzare perfettamente sulla sua sede in questo modo vedete quindi abbiamo comunque una tenuta sufficiente all'acqua essendo anche nella parte inferiore quindi non direttamente esposta l'abbondanza rimane dentro senza dare impedimenti e lui rimane collegato sì c'è da dire che questa connessione avrebbero potuto metterla in un altro modo per farla risultare un po più comoda perché siamo proprio giusti giusti ma si riesce comunque a montare correttamente mettiamo nella sua sede il coperchio imbocchiamo le due viti di chiusura e le serriamo energicamente ma senza esagerare il dispositivo è pronto possiamo ora alimentare la presa non abbiamo led di senerazione a vista sulla parte esterna li abbiamo solo all'interno vedete che adesso è in modalità di accoppiamento due lampeggi veloci uno lento led che comunque al buio si intravede anche dalla plastica molto molto poco però apriamo la nostra app e we link aggiunta dispositivo con il più blu sotto questo dispositivo si accoppia come i mini e tutti i dispositivi standard quindi accoppiamento rapido rete da 2,4 gigahertz come dico spesso mettete un nome semplice tipo it ad è una password numerica prossimo cerca il dispositivo dispositivo trovato io adesso lo chiamo presa completato viene anche già trovato dall'assistente di amazon quindi compatibile con i comandi vocali c'è un subito un firmware disponibile vado a fare l'aggiornamento e intanto chiudo il contenitore ok contenitore chiuso dispositivo aggiornato possiamo quindi accenderlo e spegnerlo sia da app che dal pulsantino sotto arancione vedete ora possiamo mettere un utilizzatore per fare delle prove sportello che ha la parte in gomma per la tenuta diciamo all'acqua ovviamente per aprirlo bisogna schiacciare qua sotto tirarlo su il movimento a molla qua sopra non è male ha un ottimo movimento attacchiamo in questo caso la mia lampadina dispositivo spento dispositivo acceso accendi presa spegni presa perfetto diamo un'occhiata alle impostazioni niente di particolare abbiamo la possibilità di impostare lynching quindi lo spegnimento automatico dopo un certo tempo nessun'altra impostazione particolare se non le solite programmazioni del caso vediamo se può essere aggiunto il widget all'ns panel presa è disponibile salviamo l'impostazione e vedete che ci troviamo sul nostro ns panel anche il dispositivo presa con solo il comando di accensione e spegnimento quando non è in utilizzo conviene staccare quello che abbiamo attaccato alla presa per garantire la corretta chiusura e la tenuta stagna la parte con le scritte rimane verso l'alto la parte con l'ingresso cavo verso il basso ricordo che abbiamo anche l'attivazione tramite pulsante che può essere comunque comoda per non dover cercare il telefono se magari siamo all'esterno non abbiamo l'assistente vocale anche fuori abbiamo visto quanto è semplice collegarla installarla dipende un attimino da dove volete metterla ma con qualche a cortezza la installiamo senza problemi dove la compriamo e quanto costa vi ricordo di cliccare sul link contenuto in descrizione per avere accesso al sito expert for house nostro partner per la rivendita di tutti gli dispositivi sono e non solo nella descrizione trovate anche il coupon per avere uno sconto del 3 per cento vi faccio vedere sul sito dove lo trovate sul sito expert for house alla voce domotica prese smart troviamo un sacco di dispositivi qui in mezzo troviamo il nostro sonoff s55 prodotto in magazzino quindi vi ricordo spedito in 24 48 ore a casa vostra costa 14 euro e 73 che è un ottimo prezzo lo aggiungiamo al carrello per avere la spedizione gratis vi ricordo di raggiungere i 60 euro di prodotti come codice promozionale sconto dattoli e avrete immediatamente il 3 per cento di sconto sul valore degli articoli un oggetto che con meno di 15 euro può risolvere già delle situazioni soprattutto all'esterno funziona molto bene come tutta la gamma sonoff a cui siamo affezionati quindi un altro prodotto interessante un bel like come al solito se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale mi raccomando seguite anche il mio canale telegram i link in massi dattoli la mia pagina amazon massi dattoli tech solution e noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima diretta del giovedì sera ciao da massi dattoli